Ciao e bentornati su Fuoriclasse Academy, il videocorso dedicato alla preparazione del concorso per la scuola. Il video di oggi è il quinto ed ultimo dedicato alla legge 107 del 2015. Potete trovare i video precedenti nella playlist dedicata alla normativa scolastica sulla pagina iniziale di YouTube del canale Fuoriclasse. Se volete sostenere questo progetto ricordatevi di iscrivervi a Fuoriclasse e di cliccare sul simbolo della campanella per attivare le notifiche, in modo che vi verrà segnalato quando pubblicherò i nuovi video. Nel video di oggi parleremo in particolare di Open Data, di Osservatorio per la Sicurezza Scolastica e degli ultimi commi di nostro interesse della legge 107. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Partiamo dunque dai commi compresi tra il 136 e il 144, dedicati appunto ai cosiddetti Open Data, cioè ai dati aperti, ai dati a libero accesso, relativi alle istituzioni scolastiche. In questi commi viene istituito il portale unico dei dati della scuola. Che cosa contiene questo portale unico? Precisiamo innanzitutto che vengono stanziate nel 2015 dei fondi per costituirlo pari a un milione di euro e che si prevede a partire dal 2016 di stanziare 100.000 euro ogni anno per la conservazione del portale e per il suo aggiornamento che naturalmente è necessario svolgere periodicamente e almeno ogni anno. Il contenuto del portale unico dei dati aperti della scuola è il seguente. Primo, i bilanci delle scuole, che devono essere pubblici e trasparenti. Secondo, l'anagrafe dell'edilizia scolastica. Vedremo poi come questo aspetto si ricollega all'osservatorio sull'edilizia scolastica. Terzo, l'anagrafe degli studenti. Quarto, gli incarichi che nelle scuole vengono attribuiti ai docenti. Quinto, il curriculum di studenti e docenti. Sesto, la normativa prodotta dall'istituzione scolastica, come ad esempio gli atti e le circolari. Settimo, ma particolarmente importante, i piani dell'offerta formativa, quindi i cosiddetti PTOF, non soltanto delle scuole pubbliche, ma anche delle scuole paritarie. Per memorizzare più agevolmente le informazioni relative al portale unico dei dati della scuola, vi invito, nel caso in cui non lo aveste già fatto, a farci un giro ed esplorarlo autonomamente. Come vedete in questa schermata, questo è l'indirizzo del portale unico dei dati della scuola, dati.istruzione.it. Come vedete, fin dalla prima pagina di Google, troviamo una sezione dedicata agli Open Data, dati a libero accesso, aperti. Quindi possiamo cliccare e, naturalmente, navigare all'interno del sito. Se cliccate su Progetto, trovate tutte le informazioni relative all'istituzione del portale unico e ai suoi contenuti, che abbiamo appena sintetizzato, e potete esplorarli in maniera autonoma attraverso le sezioni Scuole o Studenti. Come vedete, avete a disposizione una cartina e potete selezionare l'area divisa per Scuole, Studenti e Personale della Scuola, attraverso il menu a tendina, la sottoarea, quindi istituzioni scolastiche e singole sedi, l'anno scolastico di vostro interesse e la data dell'ultimo aggiornamento, che in questo caso è il 1 settembre del 2021. Dopo aver parlato del portale unico per i dati aperti della scuola, o Open Data, sorvoliamo su alcuni commi che sono, a mio avviso, meno rilevanti ai fini del concorso. Si tratta però, ci tengo a precisarlo, di una mia considerazione, quindi naturalmente voi ragionate con la vostra testa. Passiamo adesso a parlare delle cosiddette Scuole Innovative, alle quali sono dedicati i commi a partire dal 153 fino al 158. Bene, nel triennio, compreso tra il 2015, in particolare tra la data di entrata in vigore della legge, e il 2017, è previsto lo stanziamento di 300 milioni di euro, con lo scopo di finanziare la nascita di scuole innovative. Innovative da che punto di vista? Dal punto di vista architettonico, dal punto di vista impiantistico, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dell'efficienza energetica, e, infine, dal punto di vista della sicurezza strutturale, che come vedremo è uno dei punti cardine della legge 107 del 2015. Come funzionerà la ripartizione di questi fondi? Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge con decreto ministeriale, verranno ripartiti i fondi per regione. Dopodiché, le regioni, entro 60 giorni, provvederanno a individuare da 1 a 5 tra gli interventi proposti. Infine, il Ministero indirà un concorso per la presentazione di progetti relativi alle aree di intervento individuate dalle regioni. Come abbiamo visto, dunque, gli aspetti della sicurezza e della valorizzazione degli edifici scolastici sono un punto cardine della legge 107. Infatti, i commi compresi tra il 159 e il 179 sono dedicati proprio alle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici, quelle volte cioè ad appurare l'effettiva efficienza e sicurezza degli edifici scolastici. A tal fine, questi commi istituiscono l'osservatorio per l'edilizia scolastica, nonché la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. In sintesi, nel video di oggi abbiamo parlato dei commi relativi all'istituzione del portale unico dei dati aperti della scuola, dei commi riguardanti i finanziamenti erogati per la creazione di scuole innovative e, infine, della istituzione dell'osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica. Con il video di oggi si conclude la serie dedicata alla legge 107 del 2015. Se questa serie vi è stata utile, vi sarei grata se voleste mettere mi piace a questo video e condividerlo con le persone che pensate possano essere interessate. Se la serie non vi è piaciuta, mettete non mi piace. È comunque un riscontro molto utile per me. Se avete domande, dubbi, richieste di approfondimento, scrivetemi nei commenti sotto a questo video o su Facebook, sulla pagina di Fuoriclasse o ancora sul blog www.fuoriclassescuola.wordpress.com oppure via mail all'indirizzo fuoriclasseacademy-gmail.com Cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto qui e a presto! Grazie a tutti!